C'è stata la bufera di neve che sicuramente passerà alla storia della Romagna, nei due capoluoghi provinciali di Forlì e Cesena, entrambe zone dove la neve è caduta con maggiore intensità, si continua a lavorare a tutto spiano per cercare di tornare al più presto alla normalità. A Forlì il Comune affiancherà le azioni già in atto su viabilità, edifici scolastici, alberature, un ulteriore programma di pulitura e la rimozione di neve che sarà caricata su camion e trasportata in zone di accumulo. Il primo passo è rappresentato dalla pulitura delle aree del mercato pubblico, parcheggi e zone limitrofe a rotatori e incroci stradali. Quindi si procederà in orario notturno alla rimozione di neve nei settori del centro storico e di giorno nelle strade primarie dei quartieri, partendo da quelli con maggiore popolazione. Decisione identica da parte dell'amministrazione comunale di Cesena, che ha definito in tre giorni, da giovedì 16 a sabato 18, il tempo necessario per liberare dalla neve le piazze e i lati delle strade urbane. Si comincia dalle zone del centro storico, tribunale e stazione. In tutte le strade interessate saranno collocati cartelli di preavviso per dare l'informazione con almeno 48 ore di anticipo, dato che per permettere una rapida pulizia verrà istituito il divieto di sosta con rimozione degli autoveicoli, mentre sempre nelle vie interessate dai lavori di sgombero neve scatterà anche il divieto di circolazione. Gli orari dei divieti varieranno da zona a zona, i residenti sono perciò invitati a prestare la massima attenzione ai cartelli che indicheranno gli orari e, ovviamente, a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per non incorrere in rimozione dei mezzi e salate sanzioni. Sulla base del lavoro svolto nei tre giorni sarà poi stilato il calendario degli eventuali interventi successivi che si rendessero necessari.